E' iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Conte, ne ha facoltà per dieci minuti. Prego onorevole. Signor Presidente, membri del Governo e onorevoli colleghi, pochi giorni fa siamo giunti al nono mese di conflitto in terra Ucraina. Sono nove mesi in cui la Russia ha tentato in tutti i modi di soverchiare la sovranità territoriale. Politica dell'Ucraina prendo un conflitto alle porte dell'Europa, innescando una crisi i cui risvolti stanno sconquassando anche il tessuto produttivo e sociale di altri paesi e internazionale. In principio, per noi tutti, la guerra è stata una inopinata, drammatica novità. Col passare dei mesi, però, abbiamo constatato che in tanti, troppi, hanno fatto l'abitudine a questa eccezione, metabolizzandola come un terribile, ma altrettanto inevitabile, convitato nella nostra quotidianità. Sin dal primo colpo sparato in questo conflitto, dal primo colpo, il Movimento 5 Stelle ha condannato con forza, senza nessuna equidistanza, l'aggressione russa, sostenendo non solo la necessità dell'apertura di un piano diplomatico, ma anche di un sostanzioso sostegno militare al popolo ucraino. Un aiuto, attenzione, derivato non già da pulsioni belliciste e interventiste, ma dalla convinzione di porre un argine alla iniziale asimmetria delle forze in campo, che metteva a repentaglio l'integrità delle istituzioni ucraine. Un contributo, lo abbiamo dichiarato esplicitamente, deciso non a cuor leggero, ma necessario per garantire alla popolazione ucraina il sacrosanto diritto alla legittima difesa, come esancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Oggi, appunto dopo nove mesi, questa non può essere più la soluzione. Siamo al 30 novembre, signor Presidente. Sul piano delle armi e del sostegno militare, come sappiamo, si è parlato, si è agito tanto, anche troppo, di diplomazia, di negoziato, di pace. Ad oggi non vediamo nessuna traccia e non vale l'obiezione per cui non c'è possibilità di pace. La pace va costruita e frutto di una strategia responsabilmente impostata e faticosamente perseguita. Su questo conflitto l'Europa e la comunità internazionale vedono concretizzarsi giorno dopo giorno il rischio di imboccare un vicolo cieco e una strada senza via d'uscita. E attenzione, noi rischiamo di arrivare a un punto che abbiamo già conosciuto anche nella recente storia, in cui questi nostri sforzi diventeranno, rispetto alle nostre democrazie di cui ci vantiamo, intollerabili dal punto di vista politico ed economico. E quindi lì si rischia poi il collasso di lasciare tutto com'è sul campo. Esigiamo un cambio di passo dall'Alleanza Atlantica, dall'Unione Europea, dai protagonisti del conflitto e dai principali players internazionali. Soprattutto però esigiamo un cambio di passo dal nostro Paese, dal nostro Governo. Un cambio di passo che viene chiesto non solo da noi, è stato chiesto da centomila cittadini che sono sfilati qui a Roma poco meno di un mese fa per dar voce a una maggioranza silenziosa che nel Paese continua a soffrire gli effetti di questo conflitto. Il Movimento 5 Stelle non si rassegna alla ineluttabilità della guerra. Vogliamo che l'Italia svolga un ruolo da protagonista nell'apertura di un vero canale negoziale, lavorando sin d'ora per costruire in prospettiva una conferenza di pace da tenersi sotto leggi da delle Nazioni Unite con il coinvolgimento della Santa Sede che segni un nuovo protagonismo, finalmente, dell'Unione Europea. Non possiamo pensare di continuare a inseguire una illusoria vittoria militare sulla Russia, la disfatta della Russia, con il rischio di scatenare un conflitto ancora più incontrollabile nei suoi esiti, con la concreta possibilità di una catastrofe nucleare. C'è una necessità di dare voce all'anelito di pace. E rispondo al collega che era intervenuto prima. Nella grotta il bambino di Kiev non chiede di continuare in questo modo, chiede la pace. E' una parola scomparsa da troppo tempo dal dibattito pubblico. Questo Governo ha annunciato l'emanazione di un sesto decreto interministeriale per un nuovo invio di mezzi, materiali e equipaggiamenti militari all'Ucraina. Ebbene, Presidente, questa non può essere, ormai la consideriamo una routine, con meccanica e resistibilità, l'accettiamo. La reiterazione di una decisione è adottata nove mesi or solo a inizio marzo. Non può essere assunta una decisione simile senza che sia stato approfondito il quadro nazionale e internazionale nel quale questo nuovo invio andrebbe a iscriversi. Il Movimento 5 Stelle ritiene non più rinviabile un confronto politico sul nuovo quadro di intervento. Questa richiesta, attenzione, è stata più volte avanzata anche al Governo precedente. Malgrado le nostre insistenze, ne abbiamo anche richiamate nella risoluzione del 22 giugno che ragiona di un più ampio coinvolgimento rispetto al passato di questo Parlamento. Il Premier Draghi ha preferito disattendere l'impegno a questo coinvolgimento. Però quello di oggi è un Governo politico, è un Governo che presenta una ben diversa maggioranza e non ci si può più nascondere. Ne sono tollerabili più scuse. Pretendiamo un passaggio nelle aule parlamentari affinché sia anche garantito ai cittadini il diritto a un'informazione trasparente. Se il Governo vuole perorare, continuare a perorare questa linea guerra fondaia, armi a oltranza zero negoziati, non si nasconda. Venga in Parlamento a dirlo. Venga in Aula e faccia votare il Parlamento. Venga a metterci la faccia. La faccia non davanti al Movimento 5 Stelle, la faccia davanti agli italiani. Mi avvio a conclusione, Presidente. Rivolgendomi ai membri del Governo presenti qui in Aula. a chi si è presentato davanti ai cittadini con lo slogan «Pronti!» impegnandosi a fornire risposte all'emergenza economica e sociale di famiglie e imprese. Ebbene, quella che il Governo ha proposto agli italiani è una manovra nel segno dell'austerità, parliamo in modo chiaro. Una manovrina che dimentica i cittadini, che registra tagli per oltre 6 miliardi alla rivalutazione delle pensioni, un misero aumento, parliamo di 10 euro in busta paga per alcune fasce di lavoratori, il taglio del sostegno del reddito di cittadinanza, che riguarda oltre 600 mila persone in difficoltà, taglia gli aiuti anche sul caro benzina, un piano addirittura, leggiamo, di ridimensionamento che prevede la chiusura di molti edifici scolastici. Confesso, di fronte a quest'Aula e di fronte ai cittadini, che non potevo credere ai miei occhi quando appreso dalla mozione della maggioranza che l'emergenza del Governo Meloni è oggi, pur di fronte al caro bollette, al caro prezzi, accelerare sulle spese militari per raggiungere quanto prima il livello del 2% del PIL e addirittura derogare i vincoli di spesa europea per investimenti nel settore della difesa. Per noi l'emergenza non è superare i paletti dell'Unione Europea e liberare risorse da spendere sulle armi. Per noi l'emergenza è liberare risorse sugli investimenti per l'ambiente, la transizione ecologica, politiche per il lavoro, la crisi economica e sociale. Appare ormai evidente la posizione e la postura di questo governo. Andate in Europa con il cappello in mano se si tratta di misure per famiglie, imprese e ambiente. Andate con il fuoco negli occhi se si tratta di aumentare le spese militari. dobbiamo purtroppo constatare e concludo che questo governo non ha occhi per guardare le vere emergenze del Paese. Addirittura li chiude davanti a chi è in povertà assoluta ma ha orecchie ben pronte per raccogliere le istanze della potente lobby delle armi. Per questo motivo dichiaro il nostro voto favorevole alla nostra posizione. Grazie signor Presidente. Grazie onorivoli Conte.